Siamo qui all'ospedale Sacco di Milano dove in questo momento sono ricoverati in isolamento la moglie del 38enne contagiato dal coronavirus e ricoverato in terapia intensiva a Codogno. Insieme a lei, anche uno stretto conoscente trovato positivo al coronavirus e un collega, il paziente zero del 38enne con cui lui sarebbe andato a cena 16 o 18 giorni fa. E' questo collega che lo avrebbe contagiato anche se pur risultato positivo al coronavirus è totalmente asintomatico. Possiamo dire che c'è stato in questi momenti un dispaccio dalla regione che ha attivato l'unità di crisi con il Ministero della Salute e con la protezione civile in cui invita i cittadini di Castiglione, D'Adda e di Codogno a stare in casa possibilmente a limitare al massimo i contatti sociali. La situazione appare seria anche se si stanno ricostruendo i movimenti e i contatti dei a questo punto quattro contagiati negli ultimi giorni e nelle ultime anzi settimane. Sono state rintracciate e sottoposte ai test necessari. In questo momento una settantina di persone che sarebbero entrati in contatto con i contagiati, il 38enne di Codogno potrebbe arrivare al sacco nelle prossime ore soltanto però se le sue condizioni di salute lo permetteranno perché in questo momento ha intubato in terapia intensiva. Lui si era presentato ieri sera all'ospedale con la febbre alta e con l'insufficienza respiratoria. Le informazioni ulteriori verranno rese dopo un vertice che c'è stato questa mattina in regione proprio dalla regione e dall'assessore alla salute Gallera in una conferenza stampa che si terrà in regione a Milano alle 12.30.